la blocca, la X o la problemi 50, destra 3, 150 al terzo cartello scende 50 destra 5 sotto 30 sinistra 4 e sinistra 3 lunga 50 sinistra 4 sotto in destra 4 in destra 4 lunga in sinistra 4 sotto 30 ai piedi in destra 3 lunga in sinistra 3 chiude 2 ripeto 3 chiude 2 30 destra 4 30 destra 5 per sinistra 6 sotto 150 sinistra 2 taglia molto sporco destra 3 lunga lunga 30 30 30 al dosso sinistra 2 stai sotto 40 50 50 molto attenzione sinistra 2 stai sotto per destra 2 sinistra 1 150 sinistra 6 e destra 6 50 sinistra 5 sinistra 2 taglia sporco e sinistra 2 taglia sotto e e e destra 5 50 sinistra 5 50 destra 4 e destra 5 50 sinistra 5 stai sotto 150 150 in fondo sinistra 2 150 al 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 terzo cartello scende 50 destra 5 sotto 30 sinistra 4 e sinistra 3 lunga 50 sinistra 4 sotto in destra 4 e destra 4 lunga in sinistra 4 sotto 30 ai bili destra 3 lunga in sinistra 3 chiude 2 ripeto sinistra 3 chiude 2 30 destra 4 30 destra 5 per sinistra 6 sotto 150 sinistra 2 taglia molto sporco destra 3 lunga lunga 30 al dosso sinistra 2 stai sotto 40 molta attenzione sinistra 2 stai sotto per destra 2 in sinistra 1 150 sinistra 6 e destra 6 50 molto attenzione destra 2 taglia sporco e sinistra 2 taglia sotto passa destra 5 50 sinistra 5 50 destra 4 e destra 5 50 sinistra 5 sotto 150 sinistra 5 sinistra 5 sinistra 5 stai sotto 50 sinistra 4 e sinistra 3 lunga 50 50 sinistra 4 stai sotto in destra 4 e destra 4 lunga in sinistra 4 sotto 30 ai piri destra 3 lunga in sinistra 3 diventa 2 ripeto sinistra 3 chiude 2 30 destra 4 30 destra 5 in sinistra 6 sotto 150 sinistra 2 taglia molto sporco destra 3 lunga lunga 30 addosso sinistra 2 stai sotto 40 sinistra 2 sotto per destra 2 in sinistra 1 150 sinistra 6 per destra 6 50 molta attenzione destra 2 taglia sporco e sinistra 2 taglia sporco e destra 5 50 sinistra 5 50 destra 4 e destra 5 50 sinistra 5 sotto 150 destra 5 si esce ok ok chegando a mission da prima bora Grazie a tutti.